E non poteva che riprendere con piove, senti come piove il concerto di Giovanotti al Giova Beach Party di Basto in una giornata particolarmente complicata e movimentata ma che si è conclusa nella maniera migliore e ancora si continua a suonare e a cantare dal palco della Giova Beach Party questa sera a Basto nella prima serata di questo concerto evento di Giovanotti. Perché giornata movimentata? Perché intorno alle 6 è cominciato a tirare un vento abbastanza intenso che ha alzato la sabbia e subito dopo fulmini e uno scoscio improvviso che ha costretto le 20.000 persone qui della Giova Beach Party ad abbandonare l'area, è stato lo stesso Giovanotti a comunicare che il concerto sarebbe stato sospeso e che sarebbe ripreso intorno alle 21.00 e così è stato. Nella prima parte la saluta di Giovanotti alla pubblico della Giova Beach Party, il solito format con diversi ospiti sul palco tra questi Giulio Ciccone e la ciclista abruzzese che ha chiesto la mano della sua Anna Bruna con le note ovviamente di serenata rap. È stato un momento molto carino prima che arrivasse il temporale, il vento, la sabbia e quant'altro ma il deflusso delle 20.000 persone è stato regolare senza farti prendere dal panico, non si sono registrati incidenti e questo è l'aspetto più importante. Si replica domani qui a Basto, il solito format dal pomeriggio fino a notte inoltrata per questo grande evento che ha catalizzato l'attenzione di tanti appassionati della musica di Giovanotti non solo abruzzese ma anche provenienti dalle regioni lì micro.